Arpa Piemonte è difensore civico insieme per difendere i cittadini e l'ambiente. È l'obiettivo del protocollo di intesa sottoscritto dai due organismi per azioni comuni utili alla diffusione della cultura di tutela dell'ambiente. Collaboreranno attraverso lo scambio di informazioni, il confronto e la formazione sui argomenti di rispettiva competenza, tecnico ambientale per Arpa e tecnico giuridica per il difensore civico.